e tutti gli assessori che sono qua presenti, poiché sono qua per un appello. Avete già visto, lei signor Sindaco l'ha letto anche nei giornali, la nostra situazione e essa anche da mesi come siamo vissi. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, l'imperia è in una condizione, lo sappiamo bene tutti, dove tutte le aziende stanno, perlomeno le maggiori aziende stanno più dentro e le aziende più piccole sono in forti difficoltà. Noi rappresentiamo 200 famiglie e con l'imbotto anche oltre. Siamo qua in questa serata a parlare a proposito della legalità del lavoro, 200 famiglie nel giro di un anno perderanno il lavoro, lo sappiamo tutti quanti, non saranno 200, c'è quella famosa proposta di riconversione dello stabilimento per fare subi, per fare qualcos'altro.